A proposito della vaccinazione eventuale ai bambini sotto i 12 anni, lei cosa ne pensa? Favorevolissima. Perché? Perché è l'unico sistema per venire fuori da questo casino. Sinceramente non sono del tutto convinto di vaccinare un bimbo di mio a 7 anni, quindi non sono tanto convinto. Più che altro perché secondo me non so quanti test siano stati fatti su questo vaccino. Per avere una cosa opportuna? Perché secondo me? Ma per la circolazione del virus e visto che non siamo ancora fuori dalla pandemia. Quindi lei e i suoi figli sotto i 12 anni li vaccineranno? Sì. Senza paura? Sì, senza paura. Assolutamente contrario. Lei è contraria, perché? Sì, perché è un vaccino sperimentale. Io sono contrario. Lei non si fida? No, assolutamente no. Non è stato testato abbastanza a lungo. Quando riguarda i bambini sono dell'idea che bisogna tutelarli. Quindi fare la vaccinazione giusto? Fare la vaccinazione come abbiamo fatto anche noi, anche i bambini, perché è una fascia molto delicata. Sono contraria a questa vaccinazione ai bambini al di sotto dei 12 anni, non perché sia contraria ai vaccini a prescindere, ma secondo me la sperimentazione è stata veramente esigua per i bimbi. È giusto, ma per adesso vorrei, da altre evidenze scientifiche, vorrei aspettare un attimo. Io che ne ho due figli, quindi aspetterei un attimo per adesso. Grazie. 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 Grazie.